Ok, eccoci benvenuti alla nostra prima lezione. Siamo dentro Google Presentazioni e questa è la storia che in qualche modo ho cercato di rendere interattiva grazie agli strumenti messi a disposizione da Google Presentazioni. La storia è quella di Pierino il Lupo, l'ho un po' semplificata, l'ho un po' adattata e vediamo un po' com'è che funziona. Avviamo subito la nostra presentazione. Eccoci qui. Al di là della storia voglio subito richiamare la vostra attenzione su alcuni aspetti. Intanto se mi muovo col puntatore del mouse e clicco sulla diapositiva, come vedete la diapositiva non scorre, rimane bloccata. Questa è una cosa importante perché di solito le diapositive, quando uno vi clicca sopra, scorrono a quella successiva. Qui l'unico modo che ho per scorrere è usare la freccia che ho inserito nel progetto grafico della presentazione, oppure utilizzare i classici tasti della nostra tastiera del PC, i tasti freccia destra, freccia sinistra oppure freccia alto e in basso. In questo modo posso scorrere, altrimenti devo usare la freccia che ho inserito. In questo modo. Qui abbiamo l'introduzione alla nostra storia. Premiamo, andiamo avanti. Ok. Qui subito, anche qui come vedete, clicco dappertutto e non succede niente. Chiaramente qui abbiamo la nostra prima domanda a risposta multipla. Qual era, secondo te, il momento migliore? Il momento migliore per cosa? Rileggiamo un attimo l'introduzione alla domanda. Pierino doveva trovare il momento giusto per uscire di casa senza che il nonno lo potesse vedere. Quindi, qual era il momento giusto per uscire di casa? Proviamo. Proviamo al tramonto. Abbiamo scelto una risposta sbagliata, quindi ci troviamo di fronte a un vicolo cieco, a fine della storia. E l'unica cosa che possiamo fare è tornare all'inizio con questa freccia. Ricominciamo. Molto probabilmente la risposta giusta sarà la seconda. E qui proseguiamo la nostra storia. Anche qui, in quest'altra diapositiva, come vedete, clicco dappertutto, ma non succede nulla. Le slide, la diapositiva non scorre a quella successiva. La domanda a questo punto è cosa scelse di portarsi dietro Pierino? Sappiamo che Pierino si porterà dietro un piccolo fucile e una corda. La storia prosegue. Abbiamo un'altra domanda. Quale sentiero prese Pierino? A destra o a sinistra? Premo a destra. Sbagliato. Qui c'è tutta una spiegazione. Quindi anche qui altro vicolo cieco. Fine della storia. L'unico modo, l'unica strada obbligata, a meno che non forzi io utente lo scorrimento delle diapositive usando le frecce, i tasti freccia del nostro PC, l'unica cosa che posso fare è tornare indietro con questa freccia e ricominciare. Vai avanti. Abbiamo detto la risposta numero due. Nel pomeriggio, quando il nonno faceva il pisolino, un piccolo fucile e una corda e a questo punto la risposta giusta sarà a sinistra, infatti. Qui incontrerà i suoi compagni di escursione. Vai avanti. Chi si nasconde dietro l'ombra? Altra domanda. Chi si nasconderà? Il lupo. Qual è poi... Anche qui come vedete, clicco, clicco dappertutto, non succede nulla. Qui c'è un'altra domanda. Cosa fanno Pierino e i suoi compagni impauriti dall'attacco? Si arrampicano su un albero. Cosa decidono di fare? Far volare Sascha. E qui c'è un'altra domanda. Sascha volò in cerca di aiuto. Se non sbaglio, questa è quella giusta. Cosa fanno poi i cacciatori? Come vedete, anche qui, clicco dappertutto e la diapositiva non scorre, rimane bloccata. Cosa fanno i cacciatori? La risposta giusta è che erano incuriositi. E poi tutti tornano trionfanti al viaggio. Cosa succede? Poi c'è una domanda finale. E il lupo che fine fece? Fu rimesso in libertà, fu portato in una riserva naturale, fu ucciso. Se non sbaglio, dipende un po', insomma, da quale libro si è preso al riferimento. Se non ricordo male, era lo zoo. La risposta giusta, quindi fu portato in una riserva naturale. Risposta giusta, il lupo fu portato in una riserva naturale, eccetera, eccetera. Insomma, queste poi sono, come dire, le storie possono essere ovviamente adattate, personalizzate, poi non è detto che debbano essere, possono ovviamente essere anche delle storie inedite. Torna all'inizio. Come vedete anche qui nel finale, la diapositiva non scorre, rimane bloccata. Ok? Questo è una delle funzionalità più importanti, in quanto, ve lo mostro, se io inserisco ora, ad esempio, un'altra diapositiva che posso chiamare per l'occasione prova, prova corso, ok, e riavvio la mia presentazione. Qui rimane tutto bloccato, vedete, sto cliccando, ma rimane tutto bloccato. Qua, se clicco in qualsiasi parte della diapositiva, questa scorre, ok? E qui invece è di nuovo bloccato. Questa è una delle funzionalità più importanti che dobbiamo imparare ora nelle prossime lezioni. Prima dobbiamo però imparare a nominare le slide, e sarà l'argomento della prossima lezione. Grazie a tutti noi. Grazie a tutti.